Io mi chiamo Andonella e mi sono rivolta a voi perché mia mamma è stata vittima di un grave atto vandalico. Rosa vive a Potenza, decide di raggiungere gli altri figli a Modena. Quando è pronta per tornare a casa sua, scopre che non può più. Perché? Perché la casa è stata occupata. Quella casa gli è stata occupata proprio dai vicini di Casal. Erano amici del figlio, quindi un doppio dolore signora Rosa. Lei i ricordi di una vita, tanta fatica, tutto in quella casa e non può più prendere nulla, neanche i vestiti. Sono tutti sacrifici di una vita, ho tirato avanti come meglio potevo. Sono a pensione minima di 500 euro al mese e quindi far fronte a tutto. Siamo scioccati, si dicevano amici di famiglia che sono cresciuti con noi nello stesso palazzo. Il mio zio è andato a casa perché controllava sempre la casa e ha trovato la serratura cambiata e sul campanello ha posto il cognome di questa occupante. I tempi per venire a liberare l'immobile purtroppo non sono brevi. Prima di 90 giorni non sarà possibile neanche fare l'accesso con l'ufficiale giudiziaria. Allora, ieri l'avvocato che è collegato con noi ci ha detto, abbiamo due collegamenti. Buongiorno, ben arrivato Riccardo Bocca, grazie di essere qua, gli altri ospiti sono rimasti anche in groia. Dunque, ci ha detto 90 giorni, ma 90 giorni sono enormità e poi non sappiamo se entro 90 giorni poi la signora Rosa entra veramente o no in casa e ritorna in possesso della sua casa. La cosa incredibile è che chi le ha occupato casa era un amico di famiglia. Rosa, da quanto conoscevi queste persone? Buongiorno Roberta. Quanto conoscevate? Da una decina d'anni, da una decina d'anni. Da dieci anni? Appena sono venuta ad abitare là, noi siamo venuti prima di loro ad abitare là, perché questa casa ci è stata consegnata dal 1980. Mio figlio Nicola è nato là, in questa casa, ha fatto i suoi lavori. L'ha sistemato come meglio gli piaceva. Poverina. Amore mio. E quindi, a maggior ragione, io stavo raccogliendo dei soldi per riscattarla. E ora non so se mi è possibile tutto questo. Forza Rosa, eh. Perché ogni volta che vado là è come ritrovare mio figlio. Ogni volta che va là? Eh, ma non so fino a che punto. Come ritrovare mio figlio. È come trovare mio figlio che è deceduto quattro anni fa. E quindi tutto mi parla di lui. Tutti i lavori che ha fatto. quando ha pitturato, quando ha pitturato anche le mure di casa, insomma, se l'ha arredato come gli piaceva a lui. E a pensare che un elemento così vigliato si è approfittato anche di questo. che non aveva nessun diritto. A maggior ragione che c'era questa amicizia, diciamo. Che conoscevano, no? Che si frequentavano sempre, tutti i giorni. Sì, li conoscevamo, abitano nello stesso palazzo. Magari saranno venuti anche al funerale, no? Di tuo figlio, cioè, avranno vissuto questo tuo dolore. Avranno partecipato, no? Conoscevano, conoscono tutta la storia della tua vita, no? Sì, certo. Quanto dolore c'è stato per questa perdita. Pensate un po'. Allora, il nostro Vittorio, in trocaso... Quando è là, oltre lui, è morto anche il mio marito. Mio marito, mio genero. Ci sono tre morti in quella casa. Uomini di famiglia. Il nostro Vittorio, Rosa, il nostro Vittorio, in trocaso, che si trova con tuo fratello e con l'avvocato, è andato a parlare con queste persone ieri. Vediamo che cos'è successo. Allora, mettiamo la tendina con la signora Rosa e la figlia della signora Rosa, che è lì vicino, la signora Antonella. E vediamo come è andata. Che cosa ci hanno detto queste persone? Ok? Mandiamo il servizio. Vai, regia. Voi eravate anche amici del figlio della signora e questa è andata... A Modena la figlia gli avete occupato l'appartamento. Vi sembra una cosa corretta quello che avete fatto? Dentro c'è la porta blindata che è stata... E quindi le chiavi sue non vanno più bene qua? No, ma qui c'è un cilindratto europeo. La roba di suo sorello è stata trovata? Dove le hanno messa? No, è ancora tutta dentro. Ma è abbastanza pieno l'appartamento. Non ci abbrano, no? Io so che la ragazza è disastrata. È sola, ha un bambino. Cerchiamo di essere un po' umili per piacere. Quelle che stanno nelle bugie non le devono dire. Perché abbiamo fatto il portone e non hanno pagato. Abbiamo messo le poste in me, abbiamo fatto i lavori. O piangono la casa, ma che la piangono a fare la casa. A favore della ragazza? No, io non so, io sono per la giustizia. Questa ha occupato abusivamente casa. La ragazza non ha niente. Questo lo posso dire perché non ha niente. Dove andare in mezzo alla strada? Ma troviamo una soluzione per questa ragazza. Ma non puoi occupare una casa di un altro, no? La signora che fa? E me è la prima. Ma sapete quando io sono qui? Stanno facendo lo schifo a fare tutte queste domande. Va bene, ma lei la può chiamare? Possiamo parlare con questa ragazza? Sentiamo le sue ragioni? In che modo la faccio parlare? Possiamo parlare un attimo con te? No, no. È la ragione per cui avete occupato l'appartamento. Non posso rispondere a questa domanda, se non mi presenta del mio legale, mi dispiace. Voi eravate anche amici del figlio della signora e questa è andata a moda nella figlia che gli avete occupato l'appartamento. Vi sembra una cosa corretta quello che avete fatto? Sì. Chiuso. Siamo senza parole. Siamo senza parole, Riccardo. E allora sono tutte bugie. Riccardo, bocca e poi ritorno da te, Rosa. Io pago tutto all'istituto. Qui ci troviamo di fronte a un confronto sul tema della civiltà. Cioè la domanda che dice ma vi sembra una cosa normale fare questo? Che è la domanda della società civile. E la risposta implicita è sì, perché succede dappertutto, perché questo si fa. E la violenza dell'atto che è stato compiuto è ancora più forte nel racconto che abbiamo sentito dalla signora. Cioè la casa non è un elemento statico. Non sono delle mura all'interno delle quali le vite scorrono in maniera piatta. La casa evolve con la vita delle persone, diventa la vita delle persone. Quindi non è soltanto un disagio dal punto di vista pratico, che è una cosa enorme. È l'annullamento dell'identità di una persona che si trova a confrontarsi con quella che è la legge del più forte tra i deboli. Perché questa è la realtà. Allora Vittorio, quando, dopo voglio andare in groia, i nostri ospiti ovviamente siamo tutti sconvolti, ma anche delle risposte di questa signora e di chi ha difeso questa ragazza. Vittorio, immagino anche te hai provato poi di nuovo a parlare con lei, cioè non c'è verso di parlarci. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni. La ragazza si ha dei problemi, e si deve rivolgere in modo corretto alle istituzioni. Una soluzione si può trovare sempre. Ma qui a volte ci si rende conto che il piano delle cose è completamente rovesciato e ribaltato. Le vedete le finestre della casa della signora? Sono qui sopra. Avvocato Pignatelli, lei è un gestisce e un responsabile dell'Ater. Le autodenunce. Ieri ho avuto anche difficoltà a capire quante sono le persone che hanno occupato queste case? Buongiorno a tutti. Le persone che hanno occupato l'alloggio formalmente risultano essere in due, perché in una certa data, qualche pochi giorni or sono, è arrivata in ufficio l'autodenuncia da parte della signora Palazzo. E sulla scorta di questa autodenuncia noi abbiamo provveduto... Avvocato, mi raccomando, tenga i nomi, quelli sono un attimo cerchi di non... Sì, chiedo scusa. Ok, ok. Quindi è arrivata una prima autodenuncia e dopo qualche giorno è arrivata un'ulteriore autodenuncia. Quindi ad oggi sembrerebbero essere due persone gli occupanti senza titolo di questo... Beh, è chiaro, insomma. Due persone che hanno occupato. Allora, volevo sapere, Rosa, quando dice che ti hanno fatto i lavori, adesso che ti lamenti che ti prendono casa? Perché ti hanno fatto i lavori? Che è una bugia? Ma i lavori li ha fatto mio figlio. Perché dicono questo? I lavori dentro casa li ha fatto mio figlio. Sì, a parte che non vuol dire niente. Anche se uno fa i lavori non è che ti portano via casa. Cioè, non è che uno con i lavori si compra casa. Non so come dire. Perché la casa è assegnata alla signora. Eh? Cioè, quello che diceva Riccardo è molto giusto. Cioè, la casa oggi è assegnata alla signora. Questi l'hanno occupata. Per cui possono avere tutte le idee che vogliono, ma la casa è assegnata a lei? Se mai sarà l'Istituto Autonomo di Case Popolari chi sarà a dire alla signora devi pagare, devi fare, se no. Ma non un'altra signora che... Rosa, hai sentito quello che hanno risposto? No. Hai sentito? Sì, sì, sì. Sì, sì. Ho sentito. Lei dice abbiamo occupato perché la ragazza era disperata e voi non pagavate i lavori fatti nel palazzo. Ma che risposta? Ma io non so di nessun lavoro fatto nel palazzo. Sono inventato. E comunque tutto ciò che ho da pagare pago all'Istituto. Non a questa signora privata che si fa capo di tutto. Ma nulla giustifica un'occupazione. Partiamo da questo dato di fatto. Nulla giustifica un'occupazione. Punto. La giungla è la giungla. Ognuno pensa di potersi prendere i beni degli altri. È una cosa super. Antonella, vuoi rispondere a queste persone? Tu sei la figlia. Cioè, tua mamma che ovviamente vedo sia anche traumatizzata da sentire quello che abbiamo mandato in onda, no? Sì, sono traumatizzata perché io da queste persone sono stata minacciata telefonicamente. Loro dicono che sono adesso i padroni di casa, hanno occupato. Non so quale magistrato, quale autorità gli ha detto che la casa è loro, da chi sono seguiti. Nessuno. Che avvocato consiglia di occupare le case altrui? Che legge c'è in Italia? Io per fortuna sono stata cresciuta con dei bellissimi principi da mio padre e da mia madre. E dove sono? E io chiedo la legalità. Mia madre l'istituto gli ha detto di non pagare perché l'ha pagato fino a cinque anni prima di più. E gli ha detto aspetta che scaliamo tutto quello che ci hai dato. Mia mamma è una persona e ogni calugna sarà denunciata. io ve lo dico perché hanno tradito la mia famiglia. Non rispettano i miei defunti. Mio fratello, il mio dolore, io, è come se mio fratello me lo stanno uccidendo adesso. Sto vivendo questo trauma. Prego di non toccare niente perché se qualsiasi cosa manca io mi fermerò anche uno spillo. Quelli sono i ricordi io voglio dormire abbracciando le robe di mio fratello nel letto dove dormiva mio fratello e mi viene impedito. io sto male sto andando da psicologo sui pichiatri e psiquiatri non ce la faccio più basta. Io sono troppo disperato come mia mamma è una situazione schifosa. Le persone tutti mi danno l'appoggio ma hanno paura di difendermi perché queste sono persone che hanno conoscenze non legali. Punto. Posso dire solo questo sono preoccupata per la salute di mia mamma e per la sua ingolumità e spesso devono stare molto attenta a cercare qualsiasi modo per farla andare giù protetta. Quindi le istituzioni facessero ci sproteggessero per piacere. Scusa quando intendi minacce che minacce hai ricevuto perché dici ti minacciano? Allora quando eh sì 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 quando io ho scoperto che perché noi l'abbiamo scoperto che la casa era occupata come vi ho detto perché ieri non riuscivo a parlare io volevo intendere la signora si rivolga alle strutture e lavori quello volevo intendere ieri tutto in pallone mi hanno chiamato con l'anonimo chi sta occupando con la ragazza la casa con la signora ragazzi non so e mi ha detto la casa è occupata l'avete persa venitevi a prendere le cose personali io le cose le prendo quando me lo dice un'autorità competente ma chi è questa persona? Cioè uno che mi sfonda la porta che mi 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 viene a prendere le robe ma chi è? Io non do con niente perché quella è la casa di mio fratello la roba deve stare là e in più poi mi ha mandato l'otto mi ha iniziato a chiamare dopo giorni quando le persone che mi che si sono le persone giuste mi hanno iniziato a difendere su facebook su mille social questa notizia no io sono solo un intermediario adesso esce che era con lei prima voleva lasciare sola questa povera ragazza a me mi dispiace è disperata però va dalle strutture mia mamma con cinque figli ci ha tirato su da sola e nessuno di noi è diventato un delinquente siamo tutte persone rette e corrette e ci aiutiamo fra di noi il fatto di mia sorella voglio dire noi ci aiutiamo fra di noi non andiamo a prendere sfoscia le parti degli altri e mettere mia sorella dentro che ha un bambino ce la vediamo noi e poi mia sorella cerca fa domande si dà da fare aiuta in famiglia ma aiuta a me aiuta mia mamma tutto non è che sta lì così se io dovessi pagare una persona che ci aiuta quanti soldi li dovrei dare quindi se lo guadagna ma che vogliono sta gente perché la signora che parla ha l'appartamento non prende la ragazza e se lo porta nel suo appartamento ha cinque o sei figli non mi ricordo quanti cavoli di figli ha e non l'aiutano tutti quanti e poi sono collegati con la chiesa perché non vanno dalla chiesa e chiedono che aiutano questa ragazza o i figli sono un tutt'uno perché mia madre che ci sta aiutando al mille per cento deve essere ridotta così le domande sono talmente tante grazie di dare la gioia a mia mamma grazie amore Rosa veramente è una donna di una dignità credetemi e sta soffrendo tantissimo per quanto sta accadendo prima di andare da ingroia guarda siamo tutti incavolati per questa faccenda non ti pensare Antonella tanto quanto sei arrabbiata te sì io non posso vedere il fratello di Rosa io sto andando il fratello della signora Rosa che è collegato Vittorio per capire se ci ha provato a parlare anche lui con queste persone visto che vi conoscono conoscono la vostra famiglia la vostra storia cioè provate a parlare quando vi hanno detto i lavori noi abbiamo pagato i lavori adesso chiedete casa che volete da noi e poi l'altra domanda ma secondo il vostro pensiero potrebbe esserci un racket dietro all'occupazione di questa casa questa domanda qui la facciamo rispondere all'ingegnere prima parliamo col fratello tu hai provato noi ci abbiamo provato ieri abbiamo provato a parlare ieri con loro ma precedentemente avete provato a parlarci a capire qualcosa siete riusciti a avere un contatto con loro no assolutamente hai trovato la porta chiusa il cilindretto cambiato perché le chiavi che ho in dotazione giustamente non accedono e in più c'è il pulsante cambiato con il nome il nome di questa palazzo sono completamente approfittati di questo appartamento e poi come se non ci fosse una storia ho bussato allora su una storia perché stanno senza energia ora vediamo due cose che chiediamo esatto che succede due cose la prima che vogliamo chiarire è che la signora legittima proprietà assennataria non è morosa nei confronti dell'altra sì non risulta alcuna morosità la signora adempio puntualmente i propri obblighi contrattuali con il pagamento del canone di locazione la seconda cosa che chiedono da studio ma come hanno fatto a fare una voltura elettrica come stanno su questo non sono in grado di rispondere posso soltanto dire che c'è da tempo in Italia esiste una legge in virtù della quale è possibile contrattualizzare i vari servizi luce gas acqua previa esibizione del titolo quindi dell'esistenza di un contratto di locazione piuttosto che di un contratto di proprietà questo è un aspetto che dovete verificare anche in assenza di questa documentazione è possibile ottenere la voltura dallo studio chiedevano se c'è una sorta di gestione delle case di racche e quanto risulta all'ater di potenza assolutamente no non ci sono evidenze sia nella città capoluogo che nella provincia dell'esistenza di un racket è un caso isolato è un caso isolato però in groia ci sembra un po' strano è un caso isolato in groia ci sembra un po' strano che questa ragazza da sola già in difficoltà sicuramente possa aver fatto tutto quanto lei cioè si attacca la nuova voltura con l'Enel poi gli staccano la luce poi immagino che la luce ce l'abbia cambia l'appartamento però occupa la casa fa tutto da sola boh francamente perdonatemi a me sembra un po' strana questa faccenda che non ci sia comunque una micro criminalità organizzata lì perdonatemi in groia ovviamente un minimo di supporto ulteriore l'avrà avuto io quello che mi lascia veramente sbalordito è come prevalga almeno fino ad ora impunemente questa logica di prevaricazione dell'occupazione violenta abusiva illegittima e nessuno abbia sollevato un dito per disporre l'immediato sgombero di una casa abusivamente occupata cioè è una cosa allucinante siamo in uno stato di diritto o siamo in una giungla dove ognuno cerca di farsi ragione da sé che non è un modo di darsi ragione visto che non ci può essere nessuna ragione sostenibile per commettere un delitto perché occupare con la forza in questo modo escludendo chi vi abita è un reato e quindi rispetto al reato le autorità dovrebbero muoversi e direi anche sollecitamente e chiunque non si muove dovrebbe rispondere di omissione dell'attito ufficio Allora come mai 90 giorni ma non sono un po' rispetto diciamo ad altri casi che noi abbiamo raccontato addirittura dove le persone non hanno mai più preso casa occhio perché ci sono casi eclatanti come invece quello di cui ci siamo occupati nel Casertano la settimana scorsa dove invece in una settimana sono riusciti a sgomberare la casa occupata abusivamente a ridarla a legittima segnatario Ingroia come mai ci sono leggi diverse da regione a regione amministrazione amministrazione che succede? Non credo non credo affatto e ripeto un conto è se noi parlassimo di uno sfratto diciamo è quello dei tempi più lunghi ma qua stiamo parlando di un reato l'occupazione abusiva di un immobile è un reato sul quale dovrebbe intervenire immediatamente anche la forza pubblica cioè non è che occorre chissà quale iter amministrativo perché non viene sgomberato subito con l'appartamento io non riesco a capire perché uno deve aspettare 90 giorni? No secondo me non si devono aspettare 90 giorni Avvocato sentiamo a Molinari perché 90 giorni? Allora parlavo dei 90 giorni perché in Basilicata esiste una legge regionale che disciplina il settore dell'ERP la quale individua in un determinato articolo anche la procedura da utilizzare nel momento in cui si verifica un evento di occupazione abusiva è la legge fissa degli step obbligatori che dobbiamo seguire in maniera sintetica innanzitutto bisogna diffidare la persona a rilasciare l'alloggio e la diffida condiene un termine non inferiore a 30 giorni successivamente alla diffida bisogna adottare ulteriori atti amministrativi che contengono anche essi dei termini fissati per legge e quindi nella migliore delle ipotesi come già dicevo ieri prima di 90 giorni non sarà possibile per l'ATER accedere nell'appartamento anche con l'ufficiale giudiziario non sono delle procedure che sono previste per legge purtroppo non possiamo fare non avendo strumenti alternativi abbiamo capito però ci sono altri strumenti mi creda stiamo parlando di due fattispecie completamente diverse io capisco l'avvocato a che si riferisce ma si riferisce evidentemente al caso in cui vengono occupate abusivamente case non abitate qua c'è stata una forzatura del domicilio violazione di domicilio nei confronti della signora occupazione abusiva e questo si chiama delitto altro che 90 giorni bisogna procedere immediatamente io credo che se non si procede immediatamente chi non procede immediatamente dovrebbe rispondere allora il nostro Vittorio entro caso con la nostra Roberta Spinelli che cosa farà oggi anzi Vittorio perché Vittorio sta lì invece Roberta sta con la famiglia la Antonella che è da un'altra parte meno male che c'è la figlia che può dare sostegno e ricovero alla signora Rosa ora Vittorio oggi per noi per noi per questo programma andrà a chiedere alle istituzioni incompetenti perché ci risulta che lo sgombero possa avvenire prima dei 90 giorni molto prima cioè possa avvenire adesso nel momento in cui come dice lo stesso avvocato Ingroia adesso c'è il divieto c'è l'occupazione un divieto per cui stanno occupando illegalmente una casa che era già occupata non una casa sfitta vuota ma una casa che era già occupata per cui si procede in un'altra maniera lo abbiamo visto in altri casi noi adesso da due o tre settimane che ci siamo occupati in altre zone per carità però la legge è legge nelle amministrazioni possono esserci di cambiamenti minimi ma non è che no allora ci risulta che questa casa possa essere sgomberata in maniera più veloce Vittorio ti ringrazio del lavoro che stai facendo e che continuerai a fare per noi anche oggi domani vi do una notizia sarete in diretta con noi va bene Rosa ti ho detto che non ti abbandoniamo forza eh grazie forza grazie Eleonora possiamo aggiungere solo una cosa che è importantissima per quello che dicevi tu 90 giorni devono passare ma ricordiamo che la signora è fuori casa da novembre cioè la signora oggi è arrivata giustamente che è uno stato d'animo che mi ha detto io ho paura di non rivedere più i ricordi di mio figlio di non poter più mettere piedi in quella casa perché è da novembre che lei non può scendere a potenza allora a domani quindi più di 90 giorni grazie grazie a tutti gli ospiti sapete che quando noi abbiamo queste battaglie noi non le molliamo bisogna non mollarle un fatto nostro proprio grazie